Hi, odors! Buon somma, mi sono Sandy One, siamo un uomo, gente qui per un nuovo ed entro di stavolta, un video con play, questa volta, su Super Great Box! Oh, ahhh... Ok, Super Great Box, stavamo dicendo, comunque... Ehh, so che... Già ho fatto un video con play, il problema è che ho formattato il PC, non si è mattenuto il salvataggio di Super Great Box, E quindi per mia somma, somma, somma felicità, devo rifare il gioco, da capo, quindi diamo del primo, ehh... Normale? Sì, perché no? Ok, 40, bene, ok... Prendiamone... 40! Maledizione! Dai! No, che... Ah, innanzi... Ok, sono Jimmy Johnny! No, 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 calmo... Ok... Doi! Mamma mia, sì! Guarda qui che roba! Sì! Beh, massacro tutti! No! Dai! No! Sì, sono... Già mi è conosciuto come Black Mamba! No, tu non... Non andrai! No, no, no... Ragazzi, non facciamo i cazzoni! Mamma mia, che culo! Dai! No! Ok, no, con questa non ce la farò mai! Ok, 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 ok... Undici! E abbiamo una nuova arma! Revolver! Nuova aria! Eh, ehi! Tecnicamente devo solo finire il primo livello e andare a... Sì, mi ricordo questo livello! Dai! Yes! Su! Mamma mia, il revolver! Mi sento come... Mamma... Non lo so... Come qualcuno di forte... Che aveva il revolver! Non mi ricordo il nome... Callaghan! Mi sento l'ispettore Callaghan ora! Yes! L'ispettore Callaghan è femminile! Callagina! Sono... Callagina! La moglie di Callaghan! Se pensate che mio marito era tosto... Non avete ancora... Non mi avete ancora visto... Durante il periodo delle mestruazioni... Oh, shit! Mamma mia, la forza della natura, proprio! Vai così! Ok, il trucco di questo gioco è non far... Non far finire... I mosti... O... Quello che sono, insomma... Non farli finire... Nelle fiamme! Ahah! Ok, con calma! Con calma! Ce la possiamo fare? Dammi un'altra... Sì! Questa è molto meglio! Boom! Boom! Ahah! Prendi questo! Dual Pistols! Yes! Shotgun! No! Fermo lì! Mmm! Baby! Non sai neanche cosa ti sta per colpire! Oh, oh, ok! Ma no! Però mi ha preso... Lancia piame! Ok! Ok! È ritornato Black Mamba! Ahah! E tutti sanno come funziona Black Mamba! La contentezza per tutte le donne sole! Black Mamba! Ahah! Siete una donna sola? Una donna in cerca di divertimento! Ahah! Prendete Black Mamba! Lui sì che ci sa fare! Ok! Ok! E ho il volume del gioco talmente alto che non riesco a sentire neanche quello che sto dicendo! Fa niente! Ah! Ok! Però abbiamo proprio sbloccato il Tempio della Luna! Ok! Proviamo anche il Tempio della Luna! Chi se ne frega! Yeah! Flam Trower Beach! Flam Trower Beach! No! Pensavi che sarebbe stato così facile! E invece? No! Mannaggia! Ah! Ok! Ok! Piano! 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 Vai così! Prendi il Revolver! Vai! Boom! Shotgun! Boom! No! Caffo! Che cazzo! Ok! Bazooka! Flam Trower! Revolver! Boom! Boom! Dual Pistols! Non mi piace! Shotgun! Mi piace! Oh no! Quello non era affatto! Cioè, era buona, ma... Non fatemi beccare in mezzo quando tirate quel cazzarola di disco! Bazooka! Discgun! Dual Pistols! No! Ah! Ce la possiamo fare! No! Si riesce a saltare! Ok! Vai così! Bazooka! Revolver! Shotgun! Flame Trower! Vai così! Baby! Revolver! No! No! Perché tutti qui? Che annazzi... Che annazzi... Sole! Ok! Ce la possiamo, ce la posso, ce la posso, ce la possiamo fare! Vai! Vai così! Boom! Due! Disgun! Ah ah ah! Machine gun! Shotgun! Dovrò giocare! No! No! Ah ah ah! Dannazione! Ah, giù subito il... Il gigante goglia! Bene! Ok! Vai! Flame! Flame Bridge! Flame Trower! No, 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 no! Yes! Mi sta cadendo la cuffia! Mi sta cadendo la cuffia! Ah! Ok! Non c'ho... Ah ah ah! Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo! Bazooka! Yes! Ok! Vai! Vai! Ah 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 ah! Dovrò! Dovrò! Mamma mia! Non mi interessano, sono stupide! Oh no! Riturò tutto quello che ho detto, sono utilissime! Vai così! Revolver! Oh ah ah ah! No, no, no! Ma che cazzo! Ah! Questo gioco è, secondo me, una cosa di filosofico, di spiega che, per quanto uno possa combattere e lottare nel mondo, per poter aiutare gli altri e prendere delle scatole di aiuti umanitari, ci sarà sempre quel che teschio volante che te lo mette nel culo, non importa quanto forte tu sia o quante armi tu abbia, non puoi vincere. Probabilmente è qua! Ah 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 ah! Oh! Yeah! Oh, nuovo personaggio! Astronauta! Oh sì! Ho un piccolo... Ah 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 ah! Cazzo! O magari è semplicemente la spiegazione che nella vita tutto può sembrare utile e appetibile, ma quando tu lo prendi e lo ferri, ci sarà sempre un cazzo di... Mamma mia ammazzata! Che puttana! Ah 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 ah! Perché ero cao? Perché ero crepata e basta? Perché ero crepata e basta? Perché ero... Ah 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 ah! La mia vita non ha senso! La mia vita con tutti i suoi alti e bassi, bassi e alti, alti e bassi e dei lanciafiamme. Nessuno può mai dire quello che potrebbe succederti. Potresti arrivare alla fine del tuo viaggio e scoprire di essere solo all'inizio di un viaggio molto più grande. Non puoi saperlo finché non hai completato il tuo viaggio. L'essere umano così è attaccato alle sue cose, ai suoi valori, alle sue speranze, alle sue ossessioni. Perché è così? Che lo sa? Questo... Spiega... Il perché noi umani... Siamo fatti in questo modo. Siamo tutti un po'... Birbanti e un po' birichini... E un po'... Non lo so... Soli a questo mondo. Magna della merda! Io non ce la posso fare! Non so neanche qual è il suo scopo di me! Ho ho ho! Uh, 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 uh!